Questa compagnia è da oltre 30 anni che si esibisce nelle varie piazze e teatri della nostra regione e anche fuori regione, con commedie, dialettale in dialetto fermano e sketch. Nel 2003 hanno partecipato al programma televisivo su Canale 5 di Geri Scotti, La Corrida, Vicendo la Puntata. Adesso venerdì 26 agosto alle ore 21.30 saremo qui a Fano in questo splendido teatro Arena BCC con una commedia dialettale di un unico atto dal titolo Male una e peggio l'altra. In italiano male una e peggio quell'altra. È una commedia che ha avuto un grandissimo successo anche dalle altre parti e io mi auguro che la gente partecipa e siamo contenti di essere qui perché è un posto bellissimo questo.